Candidature alla rush finale. Nella serata di oggi si conosceranno i nomi ufficiali per la corsa alla Camera e al Senato. Nel collegio che interessa il Cilento e il Vallo di Diano, il centrodestra appare deciso a proporre per Forza Italia il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, e la docente universitaria, Marzia Ferraioli. Uno dovrebbe andare alla Camera e l'altro al Senato. Nel listino proporzionale per la Camera c'è anche una cilentana, il vice sindaco di Castellabate, Luisa Maiori, di Fratelli d'Italia. Fino alle 14 di oggi su questi nomi mancava l'ufficialità della coalizione perché ancora alle prese con le trattative. Mentre sono già con la candidatura in tasca e in piena campagna elettorale per il PD Franco Alfieri di Agropoli e Filomena Gallo di Teggiano, per Liberi e Uguali Luigi Giordano di Sala Consilina e poi Silvano del Duca di Lentiscosa e Anna Maria Maiorano di Vibonati per il PSI nell'ambito della lista insieme. E anche l'avvocato cilentano, Franco Castiello, che dovrebbe correre con i 5 Stelle. Oltre al parlamentario uscente, Simone Valiante, del Partito Democratico, sembrano destinati a rimanere fuori dalla corsa al Parlamento altri esponenti politici che confidavano in una candidatura. È il caso del vice coordinatore provinciale di Forza Italia, Valentino Di Brizzi, del sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato, anche lui berlusconiano, e dell'ex sindaco di Vallo della Lucania Luigi Cobellis del movimento L'Italia è Popolare.